Cosa sono gli angeli? Sono energie? I demoni sarebbero energie negative, gli angeli buoni energie positive? E per caso, hanno una personalità? Cosa sono? Ecco il tema di oggi. Buongiorno a tutti, mi chiamo Somalia Maniscalco, benvenuti nel canale, gli angeli sono con noi. Cominciamo dicendo una cosa. Nei commenti ai video di YouTube ed anche via email riceviamo spesso la seguente domanda. Come posso farvi una donazione, una tantum per sostenere saltuariamente questo apostolato? Ora, pur ribadendo sempre il mio invito a iscrivervi al gruppo Apostoli dei Santi Angeli per garantire un sostegno mensile fisso a questo progetto. Iscrizione, vi ricordo, che prevede dei benefici, come ad esempio la Santa Messa settimanale e, per dire l'ultima, la possibilità di inviare le vostre intenzioni di preghiera perché siano portate intorno al 20 luglio al santuario di Mont Saint-Michel in Normandia. A proposito, cliccate sul link che trovate in descrizione o nel primo commento se volete approfittare di questa occasione. Dicevo, pur ribadendo tutto questo, capisco perfettamente che non tutti possano impegnarsi con una cadenza mensile. Per questo motivo, e sperando di farvi cosa gradita, da oggi in poi sarà possibile fare una donazione, una tantum, direttamente dalla schermata di YouTube. È molto semplice. Guardate l'immagine qui sullo schermo. Accanto al tasto condividi trovate tre pallini. Quindi, cliccandoci sopra, vi si aprirà un menu a tendina. Scorrete con il mouse fino al simbolo indicato dalla freccia rossa e cliccate. Ed ecco cosa vi apparirà. Potrete scegliere l'importo che volete, da un minimo di 2€ fino a un massimo di 500€. È sufficiente infatti cliccare sui vari pallini bianchi perché l'importo cambi. Infine, cliccate sul tasto azzurro indicato dall'altra freccia. Potete anche associare un commento alla donazione laddove vedete il simbolo del pennino. Entrambe le cose appariranno poi come commento al video. Come vedete, è un metodo abbastanza semplice e rapido. Ma torniamo a noi, al nostro argomento di oggi, che è molto importante e che ci è stato sollecitato più volte da un iscritto a questo canale, realizzato apposta per far conoscere il meraviglioso mondo dei Santi Angeli, per sapere come attirare la loro presenza, la loro azione, e per contrastare questa crescente presenza del demonio nei nostri giorni. Però possiamo amare solo ciò che conosciamo. E più conosciamo il mondo degli angeli, le verità eterne che li riguardano, più possiamo amarli e servirli e anche essere maggiormente aiutati da loro. Perché naturalmente l'angelo custode aiuta tutti, anche chi non conosce molti dettagli della sua natura, ma se ne so di più avrò maggiori possibilità di pregarlo e di amarlo e il mio rapporto con lui sarà molto più intimo. In definitiva il suo potere di agire nella mia vita sarà maggiore. Quindi è sempre utile saperne un po' di più. E questa domanda è essenziale. Gli angeli sono energie o creature personali? Molti pensano che gli angeli siano energie positive, altri pensano che gli angeli siano gli spiriti dei nostri antenati. Non è così. Questo è paganesimo o addirittura spiritismo. Non è cattolico. Cosa sono gli angeli? Gli angeli sono creature di Dio. Sono creature razionali, dotate di intelligenza e di libero arbitrio. Hanno un'intelligenza propria, una volontà propria e possiedono il libero arbitrio. Possiedono questi tre elementi che caratterizzano un essere dotato di personalità propria. Sono esseri individuali, non sono energie, un qualcosa di indefinito che non ha una propria forma. Gli angeli non hanno materia, è vero, ma questa è una cosa diversa. Non sono, per così dire, attaccati alla materia come lo siamo noi esseri umani, la cui anima è immortale e anch'essa dotata di intelligenza, volontà e libero arbitrio. Ora, la persona umana è composta di anima e corpo. Gli angeli invece sono puri spiriti e quindi non hanno le limitazioni che abbiamo noi qui sulla Terra. Noi soffriamo la stanchezza, ad esempio. Abbiamo tutta una serie di limitazioni che il nostro corpo, per così dire, impone alla nostra anima. Gli angeli no, ma anche essi sono esseri individuali. Ogni angelo ha così tanta personalità, insegna Sant'Ommaso d'Aquino, che ognuno è la sua specie, ognuno di essi è un mondo a parte. Hanno perciò una personalità magnifica, molto più ricca di quella degli uomini, e quindi non sono energie positive. Fate attenzione a questa espressione. Molti cattolici, utilizzando un linguaggio improprio come energia positiva, e non vigilando dovutamente come dovrebbero, finiscono lentamente, gradualmente, per scivolare verso pratiche New Age o spiritiste, anche se non si confessano appartenenti a queste correnti pagane. Facciamo attenzione alla terminologia che usiamo. Gli angeli non sono energie. Possono portare con sé un'atmosfera, un'azione di presenza, un'atmosfera di leggerezza, un'atmosfera di innocenza, un'atmosfera di castità. Possono farlo, ma questo è frutto della loro personalità angelica, così come un essere umano è capace di influenzare spiritualmente un ambiente con la sola presenza, nel bene come nel male. Tanto più un angelo. Quindi, per riassumere, vi leggerò adesso la risposta che a questo quesito dà il Catechismo degli Angeli, scritto dai monaci benedettini di Barru. Alla domanda se gli angeli sono creature personali autonome, la risposta è sì, sono dotati di intelligenza, libertà e volontà. Sarebbe un grave errore equipararli agli eoni, le potenze eterne, le energie di cui abbiamo parlato, che emanano dall'essere supremo, come inteso dall'agnosi platonica. Fine citazione. Quindi, la verità è che gli angeli esistono e che sono creature personali autonome. Pertanto, il mio angelo custode non è un'energia. È un essere personale con cui ho un rapporto personale. Togliamoci perciò dalla testa che siano energie, perché questo è contrario alla dottrina rivelata da nostro Signore Gesù Cristo. Non so se questo punto è chiaro. Spero di sì. Lasciatemi un vostro commento e ricordatevi che è già online nella pagina internet per raccogliere le vostre intenzioni di preghiera, di quanti fanno parte del gruppo Apostoli dei Santi Angeli, che saranno portate intorno al 20 di questo mese al santuario di Mont Saint Michel in Normandia, uno dei principali santuari dedicati a San Michele Arcangelo. Trovate il link in descrizione e anche nel primo commento in evidenza. Non dimenticate di cliccarci sopra e di lasciare le vostre intenzioni. Se non sapete cos'è il gruppo Apostoli dei Santi Angeli o volete saperne di più, troverete maggiori informazioni al link alle intenzioni per il santuario di Mont Saint Michel. Come sempre chiedo e prometto preghiere. Noi ci vediamo sabato. Che Dio vi benedica. Grazie. Grazie a tutti.